Coach, non era facile, sei ancora visibilmente emozionato, non era facile approcciare a una partita del genere, in un momento del genere, cosa hai detto ai ragazzi? Niente, non c'era bisogno di dire niente, sinceramente era una partita terribile che nessuno di noi avrebbe voluto giocare, il nostro lavoro fa parte di quello che amiamo, di quello che Gabriele ha amato e continuerà ad amare più di tutti noi, abbiamo cercato di giocare, i ragazzi sono stati bravissimi ad interpretarlo nella maniera corretta. Come lui voleva? Sicuramente. Grazie.